ciao a tutti da piero allora giuseppe qui a sinistra mi chiede una domanda riusciresti riusciresti a trovare qualcosa riguardante l'eventuale habschibung anche per chi è cittadino europeo ma in germania cerca di vivere solo di sociale ne parlava nel suo ultimo video fantin job stavo cercando qualche fonte ma non trovo nulla grazie allora io ovviamente non conosco fantin job non so non non ho mai guardo non ho mai guardato sui video non so chi sia sinceramente quindi non mi non mi sbilancio più di tanto però credo che o abbia capito male o abbia un po reso la cosa un po come posso dire appetitosa per attirare per attirare un po di gente suppongo poi non 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 so se sia realmente così questa è una mia supposizione qua sopra come vedete ho messo una una scritta in tedesco che fraizio ghi kai fraizio ghi kai gesetz non è facile da leggere è un parolone fraizio ghi kai gesetz è la legge sulla libera circolazione non dice la parola stessa è una legge tedesca che se non ricordo male è entrata in vigore nel gennaio del 2005 mi pare e si basa su quella che è la normativa europea vediamo se la normativa europea ok la direttiva 2004 38 c e come potete vederli sopra ok che cosa prevede questa legge qua sopra prevede che si possa buttare fuori dal dal territorio tedesco anche un cittadino europeo ma in quali casi si può buttare fuori in quali casi ovviamente si può buttare fuori in caso di reati gravi ok parliamo di reati contro lo stato quindi o contro o contro contro il popolo tedesco quindi parliamo di non solo di truffa ai danni dello stato ma parliamo anche di che ne so omicidio di attentati cose del genere se è un pericolo per la salute pubblica faccio un esempio vado in un qualsiasi paese fuori prendo la peste rientro in germania non possono buttare fuori sono un pericolo per la salute pubblica possono buttarmi fuori se commetto dei reati appunto contro lo stato quindi un reato del tipo posso dire cercare di avere di contrarre matrimonio solo per avere la cittadinanza tedesca è chiaramente un reato contro lo stato e quindi è chiaro che non è chiaro che non non passerebbe impunito vi butterebbero fuori poi ci sono quei reati che non sono gravi che non sono reati veri e propri ma sono più che altro sono oneri no se si diventa un onere per il sistema cioè campare di arrivare qua non battere un chiodo campare da subito di sociale e non avere a portata non avere una buona assicurazione sanitaria che possa coprire le proprie 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 problematiche può essere un problema qual è il discorso che dove quello che fantin job probabilmente abbia capito male se io vengo in germania e dopo tre mesi non ho trovato lavoro non sono in grado di mantenermi è chiaro che devo lasciare la germania mi buttano fuori anche se sono prima erano sei mesi ora sono diventati tre mi buttano fuori anche se sono cittadino europeo non posso rimanere qui me ne devo andare perché non posso mantenermi diventa un peso per il paese divento un peso per il sistema e quindi fuori dalle valle ok questo è quello che prevede la legge la legge tedesca e le direttive che vi ho mostrato prima è chiaro che se io vengo qua lavoro un anno due tre dieci quindici e poi ho un periodo di un paio d'anni tre anni che non posso lavorare perché non solo ho perso il lavoro ma magari ho dei problemi lo stato tedesco non è che mi dice hai perso il lavoro fuori dalle valle ha capito cioè ti dà il modo e maniera di trovare la tua nuova posizione faccio un esempio io la mia posizione l'ho trovata da freelancer cioè i consigli che vi ho dato per come fare soldi online io li ho applicati tutti su me stesso quindi ho due tre quattro piccole attività che posso che mi lavorano in background e mi danno modo di poter lavorare non più di tre giorni a settimana e guadagnare guadagnare bene guadagnare per prestare bene ok guadagnare quello che mi occorre e quindi non sono più non rientro più in quel in quella categoria di ricercatori no di quelli che cercano lavoro ma mettiamo il caso che non avessi questo tipo di entrate e avessi i problemi che ho quindi parliamo dell'intervento che ho subito parliamo di tutte le patologie che ho quindi è chiaro che io che sono un invalido riconosciuto mi è stato dato lo schweb in the shine sono un invalido riconosciuto è chiaro che se lo stato mi propone dei lavori che vanno bene per me per il mio grado di invalidità e io li e io ci rinuncio perché voglio rimanere a spese dello stato a lungo andare potrebbero crearmi dei problemi poi di fatto chi campa di sociale non viene buttato fuori non così facilmente perché perché ovviamente sennò io conosco un fracco di persone che dovrebbero essere buttate fuori ok qualcuno la conoscete anche voi ma va bene conosco un sacco di persone che dovrebbero essere buttate fuori perché hanno contribuito un anno due tre e poi hanno campato di sociale per dieci anni venti anni venticinque conosco gente che che stanno in pensione con il sociale quindi pensate un po voi quindi non vi buttano fuori se campate di sociale se ci sono delle giuste motivazioni vi buttano fuori se arrivate qua lavorate tre mesi e poi dopo tre mesi di lavoro andate a chiedere quelli che sono i bugga geld ok in quel caso lì sì vi butterebbero fuori potrebbero crearvi più di un problema se arrivate qua pensando di campare sulle spalle dello stato tedesco chiaramente vi butterebbero fuori se arrivate qua lavorate dimostrate di aver sempre lavorato avete maturato io sono qua da 15 anni quasi ho sempre lavorato negli ultimi due ho avuto questo tipo di problematiche con la salute nell'ultimo ho lavorato fino a quando non mi hanno operato dopo di che sono rientrato sono rientrato da casa e mi sono creato la mia attività quindi già prima di andare via già prima di essere operato avevo già buttato le basi per creare qualcosa di mio quindi anche se dopo 15 anni mi fossi fatto non l'ho fatto ma mi fossi fatto 123 anni di sociale non mi avrebbero buttato fuori chiaro che io ne ho le motivazioni se non ci sono motivazioni potrebbero potrebbero buttarci fuori potrebbero ok è una valutazione un po probabilmente probabilmente ora potrebbe diventare pericoloso perché perché c'è un discorso di immigrazione più complicato magari ne parliamo in un altro video ok bacio un abbraccio al piano e ci vediamo al prossimo video ciao